in mezzo agli alberi la smetti o no di rompermi le scatole mannaggia la miseria ok ragazzi vi sfido a dirmi che questo qui non sembra anche solo vagamente super mario ho fatto questa storia su instagram e più del 70% mi ha dato ragione parliamo di quasi 4000 persone quindi circa 5000 persone che hanno votato quindi direi che abbiamo la conferma che assomigli abbastanza a super mario si mario c'ha effettivamente i baffi fanno verso l'insù e soprattutto non hanno la barba intorno ma è praticamente super mario versione fortnite ovviamente non potevano farlo proprio versione super mario bros identico anche su fortnite che sia una possibile collaborazione no io in realtà non credo e anzi qui non è nemmeno un idraulico è palesemente un uomo venuto dal futuro ma sarebbe figo vedere un super mario su fortnite ragazzi lasciate like se volete vedere super mario su fortnite se vorreste una skin di mario e luigi su fortnite ma che figata sarebbe ovviamente ragazzi l'ho shoppata col codice supporto a un creatore ggyt tutto grande quindi direi un bel 10.000 like per questa skin di super mario su fortnite ribadisco lasciate like se vorreste anche voi una skin di luigi io soprattutto quella di luigi proprio che si chiama come me o peach ragà la principessa peach su fortnite cioè ragà ma vi immaginate i personaggi di super mario su fortnite sarebbero delle skin fighissime ovviamente un po' rimodellate ma ci sta ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto perché siamo sempre più vicini ai 160.000 iscritti grazie davvero di cuore del supporto ma controllate mi raccomando di essere iscritti andate proprio sul canale e vedete se siete iscritti o no purtroppo ragazzi non vi ho potuto far vedere mentre la shoppavo perché mi sono ricordato davvero tardissimo di shopparla era normale 11 11 e mezza di quando era disponibile nello shop e non potendo registrare comunque a quell'ora perché sarebbe venuto un video triste dove parlavo a bassa voce ho preferito aspettare l'ho shoppata e poi sto registrando un altro giorno e l'hanno già tolto dallo shop già il giorno dopo non c'è più nello shop che tristezza comunque detto questo bando alle ciance direi di andarcene verso parco pacifico e vediamo un po' con questa fantastica skin che cosa riusciamo a combinare ragazzi mi hanno ucciso uno qui fuori ma è morto qualcuno qui fuori ho sentito qualcuno morto qui fuori tra l'altro raga il loot non è proprio dei migliori ma direi che ci rifacciamo con tutte queste belle armette che hanno qui perché facciamo così facciamo così e facciamo così ci siamo completamente rifatti il loot ragazzi con queste kill ah ecco dove era morto avevo sentito qualcuno morire proprio qui non so precisamente quello che è successo ma a me va bene così raga cioè ero partito con un loot che faceva dir poco schifo ho ucciso quello mi son fatto tutte queste armi e adesso trovo anche un pompa blu e uno scudo per fullarmi e tra l'altro non stavo ancora aprendo la cassa qui sopra vabbè sempre niente di che ecco qui il c4 mi avrebbe fatto un po' comodo ok aiaiaiaiaiai aiaiaiaiai mettiamoci il mini shield raga ma quanta gente mi sta spammando mamma mia quanto spam raga tutti con me guarda guarda ce ne stanno altri due lì vabbè io comunque dato che mi stanno sparando tutti io sparo a chiunque vedo cioè questo qua sotto ora io l'altro non ho capito dove sia andato quest'altro build a qui sotto mi vorrei andare a fare quel loot che situazione un po' del cavolo ah tra l'altro non stavo ricaricando il pompa ottimo devi morire madonna mia raga mi ha messo one shot no cos'era eh no raga mi devo mettere oh lì c'è un drop tra l'altro raga faccio una cosa faccio mi vado a fare l'air drop così sto finendo troppo i materiali sto finendo sarà un un oddio eh faccio così faccio sì dicevo sarà un trampolino sprecato ma secondo me mi serviva più che altro mi devo fare i materiali ragazzi è quello il mio problema adesso ah è anche la vita in realtà mi servirebbe un medikit o uno scudo ah guardalo guardalo ah alla fine se n'è andato ok raga allora posso lootare in tranquillità va bene meglio così ho prato a fare il giro ragazzi ma a questo punto penso se ne sia andato ah no è quello lì in mezzo agli alberi here we go con super mario l'ho fatto malissimo perché non sono capace a fare le voci ma sono troppo casato raga in mezzo agli alberi diciamo che qui l'ha un po' fregato la sua skin eh perché con quei non lo so c'aveva praticamente la tuta che rifletteva qualsiasi cosa quindi ok poi tra l'altro guarda come era messo male allora sapendo che adesso lui è fuori gioco io potrei con più facilità farmi il loot qui qui sotto il problema è che potrebbe effettivamente arrivare qualcuno no raga ma non ho cliccato niente ragazzi vi giuro non ho cliccato niente cioè fa tutto da solo ha fatto no ragazzi no voglio piangere non lo so ragazzi vabbè comunque quello che è successo ormai è il passato andiamo a lootare no raga la safe devo prendere l'elicottero mannaggia la miseria eh mi ha fatto perdere tempo questa cosa che mi ha spostato mi ha scaraventato da un'altra parte perché non me lo lascia raga si è buggato madonna mia non me lo lascia no si ha il medikit che lo scudo ah mi metto lo scudo e mi tengo il medikit per forza il medikit adesso mi fa perdere troppo tempo tanto lì ho lasciato un paio di mini shield chi se ne frega vabbè tra l'altro ragazzi siamo già rimasti in 6 cioè ragazzini anche il tempo di finire praticamente i fight a parco pacifico che la partita è finita cioè siamo già in 6 ragazzi è incredibile ok raga lì si pushano di brutto anche ok hanno appena ucciso vediamo ho sparato troppo presto col barrett ragazzi ho sparato un pochino troppo presto col barrett effettivamente dov'è il tipo? l'ho visto scendere vabbè niente provo a farmi il drop se non ci sta andando nessuno no aia lui mi ha preso io col cavolo mi provo a curare ma ho solo i mini shield aia eh ragazzi non sarà non sarà affatto easy mi tiene sotto mira mi tiene mi tiene sotto mira sta arrivando la safe no in realtà non è ancora partita aia eh bravo ragazzi cioè non faccio in tempo a mettere fuori la testa che riesce a mirarmi easy bravo 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 e l'avevo detto ragazzi questo qui è stato molto molto più bravo di me col cecchino gg ok raga lo sapete che quando il pozzo è in una situazione dove è molto lontano dal tragitto dell'autobus ci vado sempre ergo andiamo al pozzo questa volta ed ovviamente ogni volta che vengo al pozzo che succede? la safe è completamente dall'altra parte comunque si raga sono sceso qui giù e non proprio al pozzo perché poi da qui giù iniziano le mie ricerche per nitroglicerina così poi io la cerco con tutta tranquillità anche se in realtà di tranquillo non ci sarà ben nulla perché la safe è completamente all'altra parte del mondo e poi vado verso il pozzo proprio quando ho già il pass per il cavo ok diciamo che come primo loot tra l'altro va anche abbastanza bene dai ora però devo trovare nitroglicerina ah raga ma c'è anche qualcun altro che sta sparando proprio a nitroglicerina lui pensava allora secondo me lui era il bot cioè lui pensava fosse il bot secondo me secondo me lui pensava che fosse il bot che gli stava sparando e invece ero io e quindi non si è coperto lol poverino infatti io gli ho sparato da lontano apposta così almeno non se lo aspettava no? allora subito riabbatto nitroglicerina riabbatto questo e abbatto anche questo a posto mi prendo no non tu non volevo prendere te mannaggia mannaggia questa volevo prendere ok ok ragazzi allora apriamoci un attino sto cavo anche se tanto non troveremo mai un fucile a pompa ed in realtà era quello che mi interessava però abbiamo trovato uno scudo onesto dai lo scudo va più che bene poi comunque direi di tenerci il medikit mi riprendo il motoscafo che mi vado a riprendere i due medikit che ho lasciato per prendere la card del cavo e me ne vado verso la safe oh raga qua si sta infaitando guarda un po' io non tocco assolutamente niente ho soltanto distrutto le bravo l'asaro l'asaro da dietro dai ragazzi non mi rompete ma non mi rompete le scatole please mannaggia la miseria niente mo stiamo tutti qua ah ripreso pure l'elicottero ripreso ah per venirmi proprio addosso bello ti diverti con poco ti diverti ti diverti con poco ti diverti mannaggia a te mannaggia eh vabbè raga eh niente che bello l'elicottero provo a mettermi anche il medikit anche se qui purtroppo ho gente qua ho gente quello di là ah però ho la jump raga mi sa che mi tocca utilizzarla raga io vado di jump è un po' sprecata in realtà però almeno non rischio di prendere altro danno che ma c'è tu no che devi ancora uscire dalla safe ma perchè mi stai sparando pensa a uscire prima dalla safe curati e poi in caso mi spari mamma mia sta gente problematica ah tra l'altro ce ne stanno altri qui ma stiamo tutti qui ma fatemi capire niente non è entrato nemmeno un colpo ah vabbè eh lo sapevo io no mi ha anche preso non ci credo va bene mi ha sparato fino a quando ero presente dall'altra parte del mondo ah mi sta anche pushando mi sta anche pushando ragazzi eccolo no non mi voglio prendere un'altra cecchinata pure in questa partita eh ecco però neanche ste smitragliate ok ah raga ho provato a fare un giro di ricognizione verso foschi fumaioli e quella zona lì e pare non ci sia nessuno quindi è confermato che stavano tutti dalla parte mia cioè stavano arrivando tutti dalla zona da cui sono arrivato io dunque ho fatto bene con l'elicottero a non fermarmi appena ho raggiunto la safe ma andare un po' più lontano perchè altrimenti in questo momento sarei proprio nella tempesta di fuoco ma dai ho appena controllato da lì non era arrivato nessuno lo stavo proprio dicendo ah no però lui è arrivato da un po' più di qua ok non era proprio dove ho controllato io ma adesso mi rincuora un po' però ora dove è andato sto tipo? cioè no ma ma è lui mi pare che ma è lui ma è quello che mi ha sparato ragazzi la skin è quella niente solo una hit mannaggia la miseria raga mi sto spostando di qua perchè non vorrei avere gente che mi arriva da là e mi rompe le scatole ma chi sta sparando? che c'è qualcun altro di qua ma 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 mi sta facendo i bait mi sta facendo cioè spara da un'altra parte per farmi credere che ci sia qualcuno allora quindi quello lì questo qua e questo di qua io devo entrare in safe questo qui davanti a me mi sa che è l'unico che è già dentro la safe e quello lì mi sta tenendo sotto mira quindi è un bel problema niente ormai quello lì si è fossilizzato su di me eccolo 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 si è proprio fossilizzato ragazzi ormai pensa solo a me quello là no niente raga ve l'ho detto quello lì ormai si è fissato con me cioè lui ormai non continua a vivere se non mi uccide prima si è proprio fissato su di me guardalo 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 pure se c'ho il triplo muro quadruplo muro lui ci prova perchè ormai si è fissato ragazzi il problema vero è questo qui che sta niente vabbè la smetti o no la smetti o no di rompermi le scatole mannaggia la miseria eccolo eccolo pure col dove sta andando sull'albero è andato sull'albero tanto è capace questo qui di essersi messo sull'albero pur di uccidere me mannaggia la miseria ok ha ucciso quello lì no chi è morto che cosa è successo non ho capito capirai c'ho pure la pistola di mita oh e infatti con quella mi ha ammazzato non ho fatto in tempo ecco i muri li ha messi lui addirittura non ho fatto in tempo a mettere i muri no raga non ci crediamo che con la skin di super mario non è che stiamo andando molto bene devo dire la verità che si è arrivati una volta quarti una volta secondi ottimo e almeno prima abbiamo fatto 5 kg questa volta ne abbiamo fatte soltanto 3 però questo qui me l'ha rubata una me l'ha rubata perchè quello lì che si era fissato a me col cecchino lo dovevo uccidere io comunque raga niente con super mario non abbiamo avuto proprio la fortuna sperata spero che comunque il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrittivi al canale se ancora non l'aveste fatto perchè siamo sempre più vicini ai 160.000 iscritti quindi mi raccomando ragazzuoli controllate se siete iscritti al canale se non lo siete mi raccomando iscrivetevi e soprattutto utilizzate il mio codice supporto a un creatore ggyt tutto grande tutto attaccato nello shop di fortuna tutto noi ci troviamo domani in un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzi